A Roma c'è un sindaco che si chiama Virginia Raggi. La trovata di Virginia Raggi dell'ultima settimana è che il comune di Roma darà dei soldi ai romani che decidono di accogliere a casa loro un Rom. Perché se tu sei romano, non Rom, e vieni sotto un ponte, puoi treparci. Se sei Rom pagheremo i romani per darti casa. Quello è un altro modello, non sarà mai il nostro. E solo noi andiamo a copare? Togliamo per questo. Su Raggi potremmo andare avanti per ore, solo nell'ultima settimana ci ha regalato le mucche d'osa erba per tagliare l'erba dei frati, l'abbattimento degli alberi per impedire gli incendi e l'asfalto magico, questo è di ieri, che era l'asfalto che doveva risolvere il problema delle buche che era così magico che è scomparso in 24 ore quando l'avevano messo, si è sciolto. Non c'era tanto di più magico. Però al di là di questo non lo racconto perché fa un po' sorridere, lo sono dei.